Benvenuti! In questo modulo andremo ad analizzare le basi della character animation, l'animazione di personaggi, trattando la cinematica inversa, inverse kinematics in inglese, i concetti di rigging, bones e smoothing groups. Come esempio, in questo primo modulo andremo a vedere come andare a modellare, quindi a creare un oggetto meccanico, nello specifico una lampada. La prima cosa che dovremo fare è andare ad assicurarci, una volta modellato il nostro oggetto nelle sue parti, di aver posizionato correttamente, secondo un criterio o una logica, i pivot point. Con l'occasione andiamo a visualizzare un altro concetto, trattato anche negli esami professional dell'Autodesk per quanto riguarda 3ds Max. Come vedete, nella modellazione di questa lampada che è stata fatta con editable poly partendo da un cilindro, possiamo notare una cosa abbastanza particolare, ovvero che alcune parti risultano stondate grazie all'effetto dello smooth, della smussatura, mentre alcune sono rimaste squadrate. Questa è una cosa che vi capirà piuttosto di frequente ed è collegata al concetto degli smoothing groups. Per poter controllare gli smoothing groups dovremo essere in editable poly. Il concetto è piuttosto semplice. Quando noi vogliamo andare ad assegnare una smussatura, dovremo avere tutti i poligoni che appartengono allo stesso gruppo. Quindi li andiamo a selezionare e andiamo a dare, qua nella sezione Polygon smoothing groups, lo stesso numero. Come vedete adesso è smussato. Ripetiamo la stessa operazione per i poligoni qua sopra. Quando invece avremo una differenza tra identificativo, quindi di smoothing groups, avremo uno stacco netto, come in questo caso. Un trucco per velocizzare questa operazione può essere semplicemente quello di andare a utilizzare un modificatore. Il modificatore smoothe e andare ad attivare la modalità auto smoothe. Facendo così si occuperà lui di distinguere quali sono le parti che devono essere smussate e quali devono essere distinte da uno stacco netto. Fatta questa premessa andiamo ad analizzare le parti che comporranno la nostra lampada. Quindi la lampada vera e propria, la prima asta, la seconda e la base. Per visualizzare i pivot point passiamo alla modalità Select and Rotate. Abbiamo posizionato il primo pivot point tramite, vi ricordo, il pannello Hierarchy Pivot Affect Pivot Only in questa posizione, da dove andremo a posizionare quindi anche l'asse, attorno al quale il perno, attorno al quale ruoterà la lampada. Nel caso della prima parte della prima asta abbiamo posizionato qui alla base, nel caso della seconda l'abbiamo posizionato invece nella parte avanzata, nel caso della base l'abbiamo lasciata dove si trovava nell'oggetto di creazione, un cilindro anche in questo caso. Andiamo a posizionare i nostri oggetti. Testiamo le rotazioni e vediamo che dovrebbero andare bene. Proporremo due esempi diversi. In questo caso i pivot point sono stati posizionati diversamente, quindi per ciascun oggetto in punti diversi, tranne nel primo caso e nell'ultimo. Ruotando quindi la prima parte vedete che ruota in quest'altra posizione, la seconda attorno al perno. Vediamo cosa cambia. Per andare a creare una prima forma di collegamento tra le parti dell'oggetto andremo a utilizzare semplicemente il comando Select and Link. Nel primo caso andiamo a cominciare partendo dalla lampada, quindi partendo dall'alto verso il basso. Select and Link, la lampada connessa alla prima parte, la seconda parte connessa alla terza, la terza parte connessa alla base. Nel secondo caso andremo a partire invece dal basso, seguendo un ordine inverso. è possibile visualizzare l'ordine di assegnazione dei link tra le varie parti anche attraverso una visualizzazione schematica, chiamata Schematic View. Tramite l'interfaccia Schematic View è possibile visualizzare quindi l'ordine di gerarchia tra le varie parti. In questo caso vedete base connessa al primo segmento, al secondo e poi alla lampada. L'ordine nella lampada di destra è opposto, quindi abbiamo in alto la lampada e in fondo la base. Un ordine opposto. I link possono essere stabiliti o rimossi anche direttamente da qua, tramite gli appositi pulsanti Unlink Selected e infine il comando Connect. Il risultato, effettuando l'operazione direttamente in Viewport tramite il comando Link o da Schematic View, non cambia. Andiamo a vedere che cosa è successo. Ruotando questa parte della prima lampada vedrete che si porta dietro anche la parte connessa. la stessa cosa avviene per tutti gli elementi successivi. Nel secondo caso avremo un effetto inverso. Quindi, se io ruoto la prima parte, si porterà dietro tutto. La seconda parte. Si porterà dietro soltanto gli altri due elementi. E così via. Stesso effetto lo avremo andando a spostare con Select and Move i vari elementi. Come vedete, in questo caso è tutto scollegato. Stesso effetto lo avremo andando a spostare con Select and Move gli elementi principali. Nel caso di destra, la lampada si porta dietro tutto. Nel caso di sinistra è la base a portarsi dietro tutto e quindi a comandare. Se sbagliamo ad impostare il Select and Link, quindi l'ordine di collegamento fra le parti, che come abbiamo detto è legato strettamente alla posizione del pivot point nei singoli elementi, che cosa accade? Niente di troppo grave, ovviamente risolvibile, però è bene andare a vedere il comportamento per accorgersene subito. Come abbiamo detto prima, nel primo caso comandava la base. E quindi ruotando la base, tutto il resto dell'elemento andava dietro. E ogni singola parte in realtà era ben collegata. Nel caso di errato, quindi di inverso ordine di collegamento dei link, guardate che cosa succede. Ogni singola parte è scollegata. Stessa cosa avviene ovviamente nel caso che avevamo impostato prima, dove invece che essere la base a comandare, era la lampada. Vi ricordate? Ruotando la lampada o ruotando qualsiasi oggetto che veniva dietro, si portava correttamente e logicamente dietro tutte le parti. Nel caso in cui abbiate sbagliato a impostare il Select and Link, ovvero l'ordine dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, avviene esattamente come prima, questo, ovvero le parti sono scollegate e si comportano in modo non naturale. Andiamo quindi a eliminare questi errori. Già adesso, e quindi tramite l'utilizzo corretto del posizionamento dei pivot point e dello strumento Select and Link, sarebbe possibile tramite le tecniche standard di animazione, e quindi tramite i keyframes, animare il nostro oggetto. 3ds Max ci viene incontro con un ulteriore aiuto, ovvero la cinematica inversa. Si tratta di un metodo che consente di semplificare le animazioni, andando a stabilire una sorta di filo, di elastico, che connette il nodo iniziale e il nodo finale di un oggetto, intesi in questo caso come la parte iniziale e la parte finale della nostra catena di collegamenti. Vediamo come si utilizza e a cosa ci può portare. Sarà sufficiente selezionare uno dei due elementi, io vi ricordo che nel primo caso si trattava della lampada controllata tramite la base, e andare dal pannello Animation, EK Solvers, a scegliere HI Solver. Connetteremo quindi la base con la lampada. Nel caso della lampada controllata dalla parte superiore, andiamo a eseguire lo stesso controllo. Quindi Animation, EK Solver, HI Solver, e connettiamo con la base. Che cosa accade? Come vedete è comparso questo elastico, e sono comparsi anche degli indicatori. Sarà possibile a questo punto controllare gli oggetti, o tramite lo spostamento di questo EK Solver. Oppure andando a selezionare l'elemento che controllava l'oggetto. Come vedete il movimento è piuttosto naturale. Stessa cosa avviene per l'altra lampada. Quindi controllabile sia dall'oggetto che controllava già prima il nostro oggetto, sia tramite il controllo IK Solver. Questi controlli sono spesso utilizzati per andare ad animare gambe e braccia di personaggi umanoidi. Per completare la nostra lampada mancano ancora dei piccoli dettagli. Al centro della lampada abbiamo posizionato infatti una luce di tipo spot non target, per collegarla alla lampada sarà sufficiente sfruttare un altro dei comandi messi a disposizione degli animatori. Ovvero, selezionando la luce e andando in Animation, il constraint, quindi il vincolo, link constraint. Collegheremo dunque la lampada con la parte esterna. A questo punto, come potrete vedere, spostando la lampada oppure spostando il solver, la luce seguirà naturalmente la lampada. Un altro trucco per semplificare l'animazione è quello di sostituire, o meglio, di andare a creare un oggetto di supporto che sostituisca il solver difficile da selezionare. Semplicemente andremo a creare una qualsiasi forma bidimensionale, come ad esempio il cerchio, lo andremo comunque ad allineare al nostro solver, centro con centro, e poi lo sposteremo leggermente più lontano. La proprietà del cerchio, enabling viewport, ricordandovi di non attivare enabling render, ci consentirà, una volta lanciato il render, di non vedere questo oggetto di supporto. Andremo quindi a collegare, andando a selezionare il solver, e poi con select and link, al cerchio. Facendo così, abbiamo creato un oggetto, che volendo non sarà renderizzabile, ma che, una volta spostato, permetterà di controllare la nostra lampada, e di conseguenza tutte le parti, compresa la luce. Una volta impostate tutte queste caratteristiche, ci converrà andare a fare un'ultima cosa, ovvero, selezionando tutti gli oggetti, andare a impostare, sempre da animation, set as skin pose, ovvero, diremo, dando conferma al programma, che anche se andremo a modificare, a spostare l'oggetto durante l'animazione, in qualsiasi momento potremmo recuperare la sua posizione iniziale, selezionando di nuovo l'oggetto, e andando di nuovo in animation, stavolta assume skin pose. Andando ad attivare la visualizzazione lightning and shadow, illuminate with scene lights, potremo vedere in tempo reale gli effetti della nostra animazione. Tanto di luce e ombre in tempo reale. Seguendo le stesse semplici regole, è possibile andare ad animare un arto umanoide, come in questo caso della nostra mascotta Archibot, quindi ripetiamo quali possono essere gli step. L'oggetto ovviamente deve essere composto da parti ben distinte. Andremo in questo caso a utilizzare Select and Link per collegare il piede con la gamba con la parte alta. A questo punto già abbiamo instaurato, come abbiamo visto, un collegamento spostando la parte alta e viene dietro tutto il resto. Spostando il polpaccio, si porta dietro anche il piede. Non è sufficiente. Per ottenere un comportamento naturale, sfruttando l'EK Solver, sarà necessario andare a modificare leggermente la posizione dell'arto, rendendolo più naturale. A questo punto quindi andremo a connettere la gamba con Animation, IK Solver, I Solver con la punta del piede. Come vedete, se le parti sono ben modellate, la posizione dei people point è corretta e andate a instabilire una connessione tramite Select and Link sensata, tramite IK Solver sarà possibile generare un movimento e un'animazione piuttosto naturale e realistica in poco tempo.